Gian Piero Gasperini Soddisfazione è battere il Genoa? Non solo Soddisfazione è vincere con l'Atalanta, credetemi perché vincere in questo modo contro una squadra forte come Genoa è una grandissima soddisfazione Però non è che l'Atalanta ha battuto solo il Genoa ha battuto il Napoli, ha battuto l'Inter ha pareggiato con la Fiorentina ha battuto il Pescara, ha battuto il Crotone Che mese di ottobre è stato? Basta, finiamo il campionato qui Ebbè, fantastico ma soprattutto anche nella crescita perché ogni partita è stata giocata meglio abbiamo vinto con il Napoli chiaro che il Napoli è di grande spessore ma ad esempio con l'Inter tecnicamente abbiamo giocato meglio oggi con il Genoa che è comunque una squadra forte abbiamo fatto la migliore partita quindi ogni volta è la migliore partita significa che siamo in continua evoluzione E non è iniziata bene nel senso che pronti via due cambi obbligati Sì, questo ci ha levato qualcosa nel finale di partita indubbiamente oltre che mi dispiace fortemente per due infortuni Adramé e Conco quello di Conco dovuto a questa entrata che ha avuto un'elongazione quello di Dramé forse meno grave però ho in dubbio che poi la partita si è messa bene altrimenti avremmo potuto avere qualche difficoltà Aspettava così il Genoa? Beh, ma il Genoa penso di poter dire che è stata l'Atalanta che l'ha ridimensionato perché il Genoa ha fatto delle partite con il Milan se vogliamo anche con la Sampdoria dove poi magari ha perso però ha fatto una partita straordinaria altre partite che ho visto giocare con intensità credo che noi li abbiamo battuti sul loro campo sull'intensità sulla mentalità e anche sulla tecnica L'ha guardata la classifica? No non la guardavo le prime giornate perché devo guardarla adesso però so che siamo sesti sicuri questa sera perché Genoa che con il recupero con la Fiorentina potrà raggiungerci e superarci non ci supera quindi saremo sicuramente sesti poi dopo vediamo i risultati di oggi Grande soddisfazione adesso al di là delle battute una bella Atalanta che sta crescendo come ha detto anche lei e c'è un pubblico che dimostra domenica dopo domenica partita dopo partita il suo affetto Questo è fantastico io devo ringraziare veramente tutto quanto il pubblico perché oggi ci ha sostenuto in un modo incommiabile devo dire che l'ha fatto anche nei momenti di difficoltà sempre ma si sa il pubblico dell'Atalanta è molto molto passionale molto legato alla sua squadra vedere queste prestazioni questi risultati oggi ho visto tanta felicità tanta gente veramente con tanta gioia dentro per noi questo è il miglior regalo visti anche in spogliatoio anche il presidente a sua famiglia a tutti questa è una vera grande soddisfazione per me